La sua curiosità aumentò ancora più quando ad un tratto vede passare di gran fretta uno stranissimo coniglietto bianco. Il coniglio vestiva un elegante livrea azzurra e guardando l'orologio ripeteva in continuazione Povero me, povero me, sono in ritardo, sua mestà sarà dirata. Alice, in curiosità e sorpresa, si alzò di scatto e seguì il coniglio, decisa a capirci qualche cosa di più. Il coniglio correva velocissimo e ad un tratto sparì in mezzo ad un campo di grano. Alice già temeva di averlo perduto, quando ad un tratto lo vide mentre si infilava in una tana ricavata nel tronco di un albero.